Signore, gruppo A, dolori diffusi. Quando mi faccio travisare la gola con i dolci, i dolori si impennano. Gruppo A è o dolci. Quando si fa travisare la gola con i dolci. Mamma mia. E beh, allora se lo sa, perché scrive, accidenti. Insomma, ma io non capisco. Adesso le sgridiamo un po' queste persone, ecco, che tolgono un po' di spazio, tolgono un po' di spazio, che ricamano dei problemi molto gravi. Tantissimi sono gruppo zero, eh. Tantissimi gruppo zero. Bene, si buttano sempre. Ecco, e quindi, certamente, ma allora uno quando capisce che ha una determinata tendenza alla gola e che però ha anche una determinata tendenza a manifestare dei problemi, allora deve stare attenti, deve arrivare a capire quando è che si rompe quell'equilibrio, quindi che si fermi un attimo prima del precipizio. Anche perché poi, quando si sono manifestate e si sono evidenziate per bene queste problematiche costo-articolari, è dura, eh. può essere dura e molto difficile a recuperare in tempi rapidi. Quindi, attenzione. E poi ci sono tutti i vari dolci con cui ci si può fare meno male. Torta di mandorle brutte e buone, qualche croccantino fatto con le mandorle, con i semi di zucco, con i semi di girasole, con le nocciole. Insomma.